ciao ragazzi la conferenza stampa è appena finita mister e teo hernandez in conferenza adesso ne parliamo è appena terminata pollicione se vi piace il video se iniziate a essere anche voi in tensione campanella per le notifiche iscrivetevi al canale se volete farlo crescere altrimenti io vi ringrazio a prescindere e la vita andrà avanti lo stesso allora ragazzi c'era in conferenza stampa il mio idolo degli idoli il mio la mia musa ispiratrice del milan nel senso che io so che quando lui gioca al massimo noi si vince perché lui determina perché lui crea assist perché lui va vicino al gol perché lui segna perché lui imperversa sulla fascia teo teo ragazzi io sono innamorato di teo dal primo momento che l'ho visto giocare con la maglia del milan un amichevole estiva ricordo io sono molto mi fiamma la svelta per i giocatori no e però con lui è diverso con lui ho capito subito che c'era qualcosa di più del solito giocatore che veniva ricordo quando alcuni dicevano ma cosa lo prendiamo a fare che abbiamo ritardo rodriguez ritardo perché un po lento poverino ma cosa lo prendiamo a fare ricordo altri giornalisti direttori di di canali sportivi che dicevano che il milan non aveva i 20 milioni che servivano per comprare teo hernandez che era una clamorosa bufala altri che dicevano che non sapeva palleggiare quante ne ho sentite su teo l'unica verità l'unica certezza è che teo è il miglior terzino al mondo anche se terzino è un è riduttivo per teo è decisamente riduttivo diciamo che delle domande che gli sono state fatte in conferenza è stato molto più protagonista lui di pioli in conferenza perché le domande erano essendoci teo molto molto su teo no però domande un po insomma che poi teo col suo fare scanzonato sempre che sembra che ti sta facendo un piacere no essere lì diciamo su alcune si è anche sforzato di rispondere ma delle domande talmente banali talmente stupide che vabbè comunque se si è impegnato lo stesso si è sforzato e una però mi ha colpito una risposta non tanto una domanda una risposta ed è stato quando ha parlato del suo post mondiale ecco io li avevo percepito io li ho terrorizzato perché vedevo un teo completamente diverso un teo assente un teo con lo sguardo perso e lui dalle parole che ha detto oggi in conferenza da lì ho capito che per lui la finale mondiale persa ha creato una sorta di depressione una sorta di di stato mentale che è stato difficile da superare perché lui probabilmente è rientrato e rientrato dopo i mondiali con quel tarlo in testa con anche un po di di depressione post mondiale quindi e guarda caso quel periodo è coinciso con il periodo più disastroso del milan degli ultimi anni e teo determina teo teo e leao se domani faranno una grande partita io credo che avremo grandi possibilità di vincere se loro due faranno una grande partita ma ancor più teo di leao perché leao è un po più discontinuo quindi puoi avere l'alto puoi avere il basso ma teo è scientifico cioè se teo gioca alla grande le possibilità di vincere sono tante io sarò la sostenerlo sarò la con altri 72 72 mila a caricare la squadra lui oggi ha detto che mina sarà in 12 con questo pubblico che sicuramente domani creerà un'autentica bolgia nel frattempo arrivata la notizia che non è stato convocato simen quindi l'infortunio c'era e l'aprettati che era sul tenerlo in ballo fino all'ultimo ma sapevano benissimo che se uno ha quel tipo di infortunio sarà difficile anche che recuperi magari ce la farà però sarà difficile anche che recuperi per per il ritorno ma noi non deve cambiare nulla ci sarà raspadori ci sarà raspadori che a noi ci ha fatto male spesso ci ha fatto male spesso e malvolentieri ci ha fatto male tante volte quindi dovremo stare molto attenti come saremo stati attenti se in campo ci fosse stato simen non deve cambiare nulla poche domande al mister domande abbastanza banali e scontati io avessi avuto la possibilità di fare una domanda al mister gli avrei chiesto se si aspetta domani un napoli che rinuncia un po al possesso palla cerca di stare un po più coperto e magari di agire più di rimessa io avrei fatto questa domanda al mister mentre invece ci sono state sempre fatte praticamente 6 7 domande tutte uguali a cui infatti lui ha dato praticamente sempre la stessa risposta non è stato chiesto se ha già scelto tra chi ha ciao non gli è stato chiesto sulle condizioni dei giocatori veramente tante domande che non sono state fatte cioè io avrei chiesto come sta ad esempio diaz se ha recuperato al cento per cento se ha intenzione di far giocare magari crunic un po più alto visto che il napoli aspetterà secondo me aspetterà di più rispetto al solito e quindi ci sarà bisogno anche di un organizzatore di gioco partendo da dietro non gli è stato chiesto se effettueremo un pressing alto e asfissiante come abbiamo fatto nel primo tempo della partita di andata in cui abbiamo avuto tante occasioni per passare in vantaggio e un po la sfortuna un po il mare un po palo un po traversa un po girù che toglie la palla a calabria non si è riusciti a segnare ma la squadra ha fatto una grande partita e mancava leao in quella partita quindi tante domande secondo me che si potevano fare ma io non so se queste conferenze stampe siano preordinate con domande che devono passare al vaglio e quindi al vaglio quindi diciamo non si può uscire molto dal seminato però diciamo che non ci fosse stato teo che con due o tre frecciatine diciamo quella sui capelli che non sono certo azzurri per il napoli o quella su di lorenzo qualcosa giornalista napoletana gli ha chiesto se di lorenzo ha le stesse caratteristiche sue e lui si è messo a ridere diciamo facendo intuire che no non ci siamo ancora prima di arrivare a teo ne deve mangiare di pane di pane duro di lorenzo quindi ragazzi conferenza stampa un po deludente perché mi aspettavo qualche qualche chicca magari tattica magari un attimino sulle condizioni no su quelli che potrebbero essere i due dubbi della vigilia invece invece niente domande banali a ravvivarla però la presenza del miglior terzino sinistro del mondo teo hernandez che domani mi auguro faccia una di quelle volate che sabato o durante milan empoli o più volte chiesto facesse però sabato era un po frenato era un po col freno mano tirato perché sono convinto che se sabato avesse giocato al cento per cento noi anche sabato con l'empoli la partita l'avremmo portata a casa invece delegava molto diciamo delegava molto cercava di ci ha provato un po alla fine gli ultimi 10 15 minuti non dimentichiamo che si sarebbe procurato lui il rigore che sicuramente avrebbe battuto lui e quindi sarebbe stato protagonista anche nella vittoria con l'empoli sabato che ci è stata negata da il solito addormentamento al bar di del signor valeri ragazzi adesso inizio a sentire la che manca poco più di 24 ore no le 27 28 29 siamo sulle 30 ore inizio a sentire che arriva non vedo l'ora del dell'ingresso in campo delle squadre non vedo l'ora dell'ino della champions non vedo l'ora di sentire san siro vibrare sotto i piedi ma ci stiamo arrivando e l'attesa è sempre qualcosa di bello è sempre qualcosa da vivere con con intensità e compassione ricordiamoci sempre che io non ho cugini pollicione se vi è piaciuto il video iscrizione se piace canale campanella per le notifiche teo mi raccomando ciao ragazzi